E vorrei così introdurre il dottor Vadalà che è il dirigente del Corpo Operativo dello Stato e che ci parlerà del nucleo investigativo antigenio dei boschivi a una presentazione se non sbaglio anche con il computer, quindi una presentazione che ci va anche a sottolineare le indagini, la conoscenza del fenomeno degli incendi boschivi. Dottor Vadalà. Il classico microfono che non funziona al momento giusto. Grazie. Un saluto deferente ai relatori che mi hanno preceduto e che hanno posto nel dibattito la questione essenziale, quindi che gli incendi boschivi non sono solo una questione di incendi boschivi che è già una cosa comunque di per sé molto importante, è una questione del nostro territorio, del nostro territorio nazionale perché ci occupiamo ovviamente dell'Italia ma non solo nazionale perché è un problema internazionale, europeo, del sud Europa e mondiale, ma soprattutto per l'Italia perché l'Italia ha questa caratteristica, il 70% del territorio collinare o montano e quindi evidentemente il problema del degrado del territorio, il problema degli incendi boschivi, il problema del dissesto erogeologico è un problema che non riguarda quelle zone, non riguarda i problemi dei montanari ma riguarda i problemi di noi tutti, riguarda i problemi del paese. Quindi in questo senso evidentemente gli incendi boschivi sono uno specchio di questo qua. L'intervento, mi faccio aiutare da alcune nastrine per maggiore chiarezza, è quello più tecnico ovviamente della normativa del 423 bis, del decreto legge del 220 all'ora del 2000, ma vedremo che è un filo conduttore di riflessioni che sono state fatte, alcune gutissime del Presidente Amato. Questa è la questione essenziale, facciamo un passo un po' in avanti rispetto al decreto legge del 220, è quello della legge 353 del 2000, quindi quella poi successiva del novembre, di alcuni mesi dopo, e nella differenza fra la vecchia normativa sugli incendi boschivi che era la 47 dell'85 e quella attuale, quella del 2000, vediamo che c'è un incipit della normativa totalmente differente che dà il senso della rivoluzione copernicana, così potremmo dire che sugli incendi boschivi il legislatore ha voluto dare e ha iniziato proprio col decreto legge. Cioè mentre la normativa quella esistente fino a prima del 2000, l'articolo 1 parlava di che cosa? Di protezione civile, di contrasto, di lotta attiva agli incendi boschivi, che ovviamente sappiamo tutti che è assolutamente doveroso, è quello che è stato detto e viene fatto. L'incipit della normativa del 2000, ma già introdotta dal decreto legge dell'agosto del 2000, è quello che è completamente diverso perché la legge dell'85 parlava quindi solo di protezione civile, la legge del 2000 invece parla di che cosa? Del patrimonio boschivo come evidentemente un bene insostituibile della nazione, che se vogliamo è un fatto ovvio conquistato, però evidentemente se nel 2000 è stato detto vuol dire che c'era bisogno di questa ulteriore precisazione. Richiamando l'articolo 117 della Costituzione che poi successivamente nel 2001 ha subito la rivisitazione del titolo quinto della Costituzione ed è stato introdotto per la prima volta nella Costituzione nazionale il termine di ambiente che ancora non era così presente in maniera diretta come nel 2001 è stata fatta. Quindi in un certo senso evidentemente c'era un dibattito aperto e la legge del 2000 l'ha innentrodotto. Da che cosa si è partiti evidentemente in quegli anni? In quegli anni si è partiti dal fatto che è vero che ci sono dei fattori predisponenti che cosa? Che predispongono i soprassuoli boschivi per questo accumularsi di combustibile secco? Purtroppo dico ad essere incendiati, però è un dato certo di conoscenze e questa è l'attività del nucleo investigativo l'ha evidentemente comprovato e quello che è il 98%, 97% a secondo l'annata e può essere il 96% degli incendi boschivi sono però una causa umana, sono una causa determinante umana colposa o dolosa, poi lo vedremo, lo analizzeremo vedremo alcuni dati, però evidentemente il problema è questo. Tra l'altro la cosa importante da dire è che anche a livello internazionale questo dato del 98% può variare a secondo le situazioni al 90% ma si attesta su queste percentuali perché? Perché è ovvio che ci sono paesi come la Russia o gli Stati Uniti dove l'incidenza degli incendi perfulmini per esempio che praticamente insieme alle eruzioni vulcaniche sono l'unica causa naturale degli incendi è ovviamente preeminente però anche là, poi lo vediamo dalle crone che ogni tanto in Australia, ogni tanto vediamo nella zona della California che succedono questi incendi disastrosi, c'è una componente umana che è molto importante. Nel 2000 si è partito col decreto legge delle 220 da questo presupposto, se con le azioni di protezione civile abbiamo fatto, non dico il massimo perché si può fare sempre meglio, però evidentemente insomma è da anni e dal 75 che si mettiamo in atto queste attività, perché non contribuire visto che c'è un fattore umano molto importante con l'azione di deterrenza e di conoscenza della norma penale che è giusto l'anticipo, una riflessione che tutti sappiamo, facciamo forse bene dirlo, è ovvio che la norma penale non può risolvere il problema o il fenomeno, non può risolverlo però evidentemente è una difesa che lo Stato, un Paese mette in atto per cercare di difendersi anche da queste situazioni. Quindi decreto legge del 4 agosto, del 3 agosto, il 10 agosto viene creato il nucleo investigativo antigeni di Boschivi, è giusto ricordarlo, io ne ho avuto la direzione fino al 2008, dal 2008 c'è il collega Angelo Marciano che saluto, che è presente in sala, insomma che conduce le azioni con passione ed efficacia e quindi questa azione ovviamente è continuata dall'amministrazione e questo è l'articolo di legge famoso, importante, che è quello che, giusto per metterlo in risalto le cose più importanti, il livello di pena è passato da 4 a 10 anni, tra parentesi erano il vecchio livello di pena che era 3 o 7 anni, 10 anni, ricordiamolo, ci ha consentito in qualche caso come livello di pena di sviluppare le intercettazioni telefoniche che con quel livello di pena possiamo avere, prima con i 7 anni non si poteva avere, questo è un fatto importante. La colpa è rimasta tale e quale il livello di pena, la connotazione particolare di questo reato qual è stata? È quello che indubbiamente come il Presidente della Fondazione Univerde e il Ministro ha ricordato, è quello che è un reato specifico, è stato specificato, prima non c'era, oggi c'è questo reato specifico che difende l'ambiente oltre che l'incolumità pubblica. La legge 353 ha introdotto un altro aspetto fondamentale che è quello della definizione di incendio boschivo, che è quello che ci ha consentito di far cosa, quello che è appena accennato sempre in questa lastrina, quello di anticipare l'azione dell'incendiario, di fare prevenzione, quindi non solo la norma ci ha consentito di fare deterrenze e quindi prevenzione, ma di anticipare le azioni quando evidentemente c'è pericolo che quell'incendio ha piccato non dentro il bosco ma nelle immediate vicinanze che per quelle condizioni di ventosità venivano ricordate per esempio del 2007, possono provocare un incendio boschivo, quindi ben disastri ben maggiori, evidentemente questa azione è definita un'azione criminale di incendio boschivo e noi possiamo intervenire per poterlo fare, proprio per bloccare e per anticipare l'azione. Questo prima del decreto legge delle due eventi non esisteva e questo perché? Perché ci sono due connotati importanti, uno è quello ovviamente di un reato a tutela dell'ambiente, a tutela del patrimonio forestale nazionale, l'altro è quello della tutela della pubblica incolumità, è un reato di pericolo quindi si deve intervenire, abbiamo il dovere di intervenire prima che non quando il danno è stato già commesso, che siamo forse già un po' troppo tardi, ma quando evidentemente c'è pericolo, questo la norma ce l'ha consentito ed è quella che allora è stata congegnata. Quindi sono quattro, diciamo volendo riassumere le particolarità di questo che l'articolo 423 bis ha introdotto e sono quello della specificità del bene protetto, cosa che prima indubbiamente non era, l'aumento delle pene, la connotazione come reato ambientale e questa correlazione con la definizione di incendio boschivo. Cosa ci ha consentito e cosa consente? Nei dati che sono stati citati, quindi che sono in in questi dieci anni circa quasi quattromila persone segnalate all'autorità giudiziaria di cui 132 e 133 arrestate, di fare l'arresto ovviamente per incendio doloso, questo è bene precisarlo e anche l'altra cosa importante è anche come incendio tentato, come delitto tentato, cioè se c'è un tentativo di delitto e questo ovviamente è previsto per tutti i tipi di reati, possiamo intervenire anche con l'arresto proprio perché evidentemente il livello di quell'azione di pericolo e poi di danno è grave. Ovviamente ci devono essere il compimento degli atti cosiddetti idoni e non equivoci, ci devono essere atti che poi lo vedremo in un caso emblematico che è accaduto, come in effetti questi devono essere così. Alcune sentenze ma sono rapidissimo, ma giusto per far capire che dal 2001 al 2010 la norma ha funzionato come in effetti è stato già ampiamente detto e lo vediamo registrato nelle sentenze. In una sentenza del 2001, quindi appena la norma, giusto leggo le ultime due righe, questo lo dice il magistrato, insomma il giudice, del resto anche il più piccolo dei focolai che è stato spento dopo aver bruciato 50 metri quadrati, 50 metri quadrati sono insomma questo pezzettino, di vegetazione non potrebbe perciò essere definito semplicemente un fuoco, cioè prima del 2000 50 metri quadrati erano un fuoco che probabilmente non davano nemmeno origine alla rubricazione di quel reato come incendio non boschivo ma nemmeno non boschivo. Dopo il 2000 invece questa norma ci consente che quella persona che è stata vista, che applicava l'incendio, certo non 10 km lontano dal bosco ma 200, 300, 400 metri vicino il bosco può essere ed è stata segnalata o arrestata per incendio boschivo e questo insomma è un'efficacia non piccola. E la stessa cosa questa nel 2003 quindi più o meno insomma non mi ripeto diciamo che ripetono la stessa la suscettività e la stessa cosa nelle 2006 e anche fa riferimento al fatto che le squadre che intervengono a spegnere non è che il fatto che spengono l'incendio dice no il reato non c'è stato, no le squadre intervengono per fare ovviamente l'attività di difesa delle persone ma prima del 2000 anche questa attività che le squadre facevano di limitare l'incendio era pensata ed era considerata come un fatto che comunque minimizzava l'evento che era stato provocato. Nel 2008 con il collega Marciano l'abbiamo vissuto assieme, lui era responsabile del Parco Nazionale del Cilento abbiamo applicato, abbiamo catturato un incendiario con il radiolocalizzatori. È bene citarla perché è stata la prima volta che almeno negli incendi boschivi è stato non solo bloccato e arrestato questa persona ma dalla magistratura è stato riconosciuto che il radiolocalizzatore ci consente evidentemente di seguire le persone e effettuando poi il riconoscimento dell'area dove era stata appiccata e i movimenti della persona è stata individuata la persona. L'ultima la sentenza del 2010 guarda caso insomma sembra veramente un caso di pochi giorni fa del 10 luglio di un caso anche questo emblematico all'ora del 2007 quando era stato bloccato una persona in provincia di Latina con 22 zampironi, poi vedremo un attimo cosa sono questi zampironi che li aveva nel sacchetto pronti per innescare il bosco, la persona per tutta una serie di motivazioni era stata momentaneamente scarcerata, poi invece evidentemente è stato considerato l'arresto. E questa è una sentenza quindi di pochi giorni fa che cosa configura? Cioè fa un ulteriore passo in avanti rispetto al 423 bis. Il magistrato in consentenza di primo grado ha riconosciuto che detenere uno zampirone che sarebbe la spirale zanzorifuga, quella che normalmente usiamo per difenderci, ovviamente montata e innescata in una certa maniera, non quella semplice fiammiferi in tasca, ma detenerla e portarli in un sacchetto e stare vicino a un bosco in certe ore è come volendo fare ovviamente l'opportuno paragone trovare una persona con la molotov vicino a alcune cose o una persona che sta mettendo una tanica di benzina sotto una macchina o sotto un negozio. Cioè non è un fatto lecito. Prima di questa sentenza e quindi applicato il 435 al codice penale che è il reato che colpisce chi detiene sostanze infiammabili, prima di questa sentenza se queste persone giravano nei boschi così con questi ordigni purtroppo micidiali montati non c'era nessuna norma. Dal 10 luglio è così è una cosa che veramente porta a compimento tutto il lavoro iniziato 10 anni fa. Strumenti conoscitivi. Molto rapidamente gli strumenti conoscitivi come primo strumento conoscitivo non dimentichiamo il catasso delle aree percorse da incendio. Questo è servito per vari motivi e è servito per vari motivi perché ci ha permesso di conoscere meglio ovviamente certe situazioni. Ma ci ha permesso di fare pressione su chi? Su chi a volte rimboschiva, cioè bruciava per rimboschire, cacciava o quantomeno faceva bracconaggio, bruciava per fare bracconaggio per spostare animali, cinghiali e quant'altre cose. Coloro che anche in effetti bruciavano per poter costruire. Dal momento che evidentemente il catasso c'è, esiste, il corpo forestale ogni anno è impegnato in questa attività di andare a perimetrare circa 5.000 incendi quest'anno, quindi andare a perimetrare uno per uno con il GPS, è un lavoro non piccolo che viene fatto dalle squadre, viene tutto inserito in questo, queste sono solo alcune immagini, questo è sempre il parco del Cilento, ho preso a pretesto sempre quell'aria, questi sono incendi di tre anni, ecco 2006, 2007, 2005 e il parco del Cilento vediamo che ovviamente gli incendi si concentrano nella zona verso il mare e tutti quegli incendi così colorati sono perimetrati. Questo serve a far deterrenza perché anche se non abbiamo magari il 100% dei comuni che riescono poi a mettere questo elenco di incendi all'albopretorio, però sicuramente l'efficacia è molto ma molto maggiore. Altri strumenti conoscitivi sono quelli che è stata preparata dal collega questa pubblicazione operativa che è quella di stabilire il punto di inizio degli incendi, non mi dilungo qua, faccio vedere solo alcune immagini, c'è una metodologia, un'espertise dei forestali che fanno ogni anno che è per capire il punto di inizio degli incendi, cioè se io non riesco a capire da dove parte l'incendio e come non riesco a capire dove c'è un investimento di auto, un furto, devo partire da là. Per l'incendio che colpisce aria da un ettaro a 100, 200, 300 ettari la cosa non è banale, c'è tutta un'attività che viene fatta che è quella di leggere le tracce che l'incendio lascia nel bosco per poi arrivare al punto da dove esso è partito. Per esempio questo qua è un chiarissimo punto da dove è partito l'incendio, un mucchio di cenere che sembra banale così, ma incendi che sono di ettari e ettari, credetemi non è assolutamente facile. Si fanno anche i calchi, due casi sono stati risolti con i calchi, uno di impronte e uno di motorino e questi sono degli ordigni che sono stati sequestrati in questi anni, la candela, le molotov anche, questo è anche un ordigno assolutamente particolare e rudimentale, non sono altri che dei fiocchi che vengono fatti nell'ampelodesma che è uno degli arbusti più noti della macchia mediterranea, vengono fatti dei nodi e poi là opportunamente seccati basta purtroppo passare e dare inizio all'incendio. Sei casi sono stati risolti mediante il DNA trovato su cicche di sigarette, ma non quelle ovviamente che si buttano per caso, ma quelle proprio fatte da chi voleva innescare e i casi, i casi sono quelli di Latina, questo è lo zampirone fantomatico, famigerato che non facciamo mai vedere giustamente per non creare false situazioni. Questo è Peschici, l'incendio di Peschici è stato ricordiamo uno degli incendi più disastrosi, 700 ettari percorsi, l'incendio è partito da questo Oliveto, da questo Oliveto banale potremmo dire Oliveto dove c'erano, non siamo riusciti a individuare l'autore del reato, non si è capito se era una ripulitura mal fatto, qualcuno che ovviamente invece lo voleva fare ad hoc, però da questo incendio è partito poi il disastro. Però ricordiamo che in quell'estate poi del 2007 riuscire a individuare intanto il punto di inizio degli incendi e riuscire a dire guarda che forse non è la mafia che sta incendiando il Gargano, poi tutto può essere ovviamente, ma insomma riuscire a dare delle basi solide è l'altro punto fondamentale che il 423 bis, conoscenza e la deterrenza, riescono a poter fare. Questo è Sestri Levante, è un incendio più datato, anche questo addirittura ha percorso 500 ettari e questo incendio, allora nel 2004 comunque, questo incendio è partito da una ripulitura che una persona ma veramente un diciamo tra virgolette uno sprovveduto, cioè colui che andava là a fare le ripuliture della sua casetta, nemmeno era una casetta dove venivano detenuti degli attrezzi, colui che non era pratico ma andava là il sabbella domenica, 500 ettari a causa di questo sono stati bruciati. Da dire cosa? Le fattispecie, il reato, allora il reato, il 423 bis ci ha permesso di fare conoscenza, cioè di, fino al punto C, di essere sicuri di quello che avviene nella fattispecie ovviamente. Il punto D è sulla criminalità organizzata nel senso che su quello si lavora, finora non abbiamo trovato tracce o grandi tracce, siamo ovviamente sempre allerta per poterlo fare. La cosa importante, quindi ripeto, la norma specifica ci ha permesso di aumentare la conoscenza e soprattutto ci ha permesso di fare un ragionamento che forse ora a 10 anni di distanza sembra abbastanza semplice, però di non sovrapporre i fattori predisponenti alle cause determinanti. Nel senso che evidentemente le due cose devono essere analizzate separatamente, i fattori predisponenti, la ventosità che è stata ricordata dal Presidente Amato, si ricordava bene, insomma il 2007 è stato un anno che l'abbiamo vissuto di ventosità forte, sono quelli che aiutano chi ha già in mente per dolosità, colposità, piromania, incendiari e altro di poterlo fare. Grazie.